La città di Fano ha ottenuto 15 milioni di euro dopo l'emergenza maltempo dello scorso maggio grazie all'impegno del commissario Figliuolo, cifre che l'amministrazione comunale ha diviso per interventi in via Pisacane e località Ponte Sasso. Per quanto riguarda invece il torrente Arzilla sono stati finanziati 500 mila euro. Ieri in prefettura si è svolto un incontro voluto dal comitato per fare il punto sui rischi del corso d'acqua. L'incontro è stato voluto fortemente dal comitato Arzilla rappresentato da Enrico Fumante e da Walter Dulpetti i quali siamo riusciti a convenire ad un piano di interventi che metteremo in piedi per quanto riguarda l'Arzilla premesso che qualcosa è già partito. Quest'anno abbiamo fatto un intervento di carattere straordinario pari a 100 mila euro per quanto riguarda la parte della rimozione vegetativa. Ieri sera abbiamo avuto la certezza che arriveranno altre 500 mila euro che momentaneamente sono state affidate al consorzio di bonifica che serviranno proprio per fare un'ulteriore pulizia strategica su una parte del centro abitato. Quando si parla di pulizia noi intendiamo sempre la parte del dragaggio anche se la parte del dragaggio ancora lascia desiderare sia su quello che sono i tempi per attesa delle autorizzazioni perché sono sempre molto complicate ma soprattutto per lo smaltimento di questi fanghi. Detto questo avremo anche altre opportunità importanti perché proprio sul piano triennale come comune di Fano abbiamo previsto un milione e mezzo per un'ulteriore pulizia di dragaggio di fanghi nell'annualità del 2024. Il ministero si è impegnato per riconoscerci 15 milioni e mezzo legato a due interventi specifici su via Pisacane quindi il nuovo collettore che dovrà naturalmente risolvere definitivamente tutto il problema degli allagamenti ma soprattutto su Fano Sud laddove ogni volta che c'è un evento piovoso neanche troppo importante quell'abitato va sott'acqua. Il progetto che riguarda il torrente Arzilla prevede la realizzazione di una vasca di laminazione in località Falciraga come valvola di sfogo in occasione della piena del torrente. A seguito di questo incontro sono emerse due cose la prima di chi sono le competenze il comune ha la competenza dell'ordinaria manutenzione fino all'area dell'urbanizzato fuori dall'area dell'urbanizzato c'è il consorzio di bonifica e per le grandi opere la regione. La seconda quali interventi possono nell'efficacia abbassare quello che è il rischio di alluvione e di allagamento. L'intervento principale è quello di ordinaria manutenzione e su quello ci siamo attivati sia con i 100 mila euro prima che con i 500 mila euro che sono arrivati al consorzio di bonifica a seguito di una richiesta del comune di Fano per lo stato di emergenza e con il milione e mezzo che abbiamo messo in bilancio comunale. L'abbiamo studiato, l'abbiamo individuato, l'abbiamo presentato alla regione ad aprile e ieri abbiamo ottenuto grazie all'aiuto anche del prefetto di farci finanziare questo progetto che è la realizzazione di una vasca di laminazione del costo di 5 milioni e ci finanzieranno la progettazione per inserirlo nella piattaforma ministeriale Rendis affinché possa essere finanziato poi dal ministero e entrare in graduatoria. Questo è un significativo passo avanti perché noi possiamo fare tanti piccoli interventi e va bene ma se non pensiamo a qualcosa di più strutturale e non iniziamo finalmente a farlo non andremo da nessuna parte. Quindi questo è il primo significativo passo avanti in quella direzione.